ciao amorosi oggi con questo video tutorial vado a soddisfare un'altra delle vostre richieste che è quella relativa a una giacca una giacca che ha la peculiarità di avere un collo a sciale è realizzata in un pezzo unico con le maniche applicate in un secondo tempo ed è veramente semplice nella sua realizzazione per quanto sia di grande effetto una volta terminata e indossata è compatta quindi va benissimo proprio come giacca volendo se la fate più lunga potete utilizzarla anche quale cappotto andiamo quindi subito a vedere cosa occorre e come si realizza per realizzare la giacca io ho utilizzato il filato just in colored che è un filato molto molto adatto alla lavorazione di questo tipo di progetti che devono rimanere leggermente più compatti perché una giacca deve rimanere leggermente più compatta e il filato just in colored è veramente perfetto per questo tipo di lavori ne utilizzate 850 grammi per una taglia 48 50 adatta bianca una 52 ma io la volevo lo volevo molto molto ampio mi piaceva avvolgente per vedete che io qui ho messo un metro per ricordarvi che dovete fare sempre un campione per adattarlo alle vostre taglie perché ovviamente io non è che posso fare tutorial per ogni taglia io faccio un tutorial a seconda del tipo di progetto che devo fare e poi voi andrete ad adattare le taglie al vostro progetto facendo semplicemente un campione per questo la lavorazione di questo di questa giacca è semplicissima ed è adattabilissima in un attimo a tutte le taglie vi occorre poi un uncinetto numero cinque e mezzo perché la giacca l'ho lavorata tutta con l'uncinetto numero cinque e mezzo poi un paio di forbici e un ago da lana andiamo immediatamente quindi a vedere come si realizza la nostra giacca per farvi capire meglio come realizzare il nostro cardigan io ho realizzato un piccolo prototipo in miniatura per farvi capire bene tutti i passaggi iniziamo il nostro cardigan a partire da sotto quindi andremo a realizzare una catenella iniziale che sia pari alla larghezza che vogliamo ottenere per il retro del nostro cardigan quindi se volete un cardigan più ampio monterete più maglie se volete un cardigan più aderente ne monterete meno per montare le nostre maglie andremo a fare un montaggio senza catenella iniziale in modo che voi possiate misurare man mano che create la catenella possiate misurare il vostro lavoro come facciamo quindi per che ne so se voi avete un cardigan o una maglia che sapete che vi sta bene adosso andrete a misurare la catenella iniziale quindi la lavorazione iniziale sul retro del vostro cardigan o un maglione perché vi va bene anche basta anche un maglione in modo da poter misurare il retro perché la prima misura importante è quella del retro ora io per il mio cardigan siccome lo voglio fare bello ampio andrò a montare 94 maglie e le monterò in questo modo nel canale trovate il tutorial come fare la viatura senza catenella iniziale però ve lo faccio rivedere velocemente anche qui prendete il vostro uncinetto è filato e andate a realizzare tre catenelle quindi io ho capito iniziale lo sapete lo utilizzo come punto e vado a fare ancora due catenelle punto carico il filo sull'uncinetto punto l'uncinetto nel primo nella prima maglia di base quindi nel mio caso nel cappietto e vado a realizzare una maglia alta però prima di fare la maglia alta vado a creare la catenella per il punto successivo quindi inserisco l'uncinetto cioè carico il filo sull'uncinetto e lo faccio passare attraverso la prima asola in questo modo vado a costruire la base per il punto successivo quindi tenete sotto controllo questo punto poi adesso chiudo normalmente la mia maglia alta faccio la seconda maglia quindi questo punto è la base del punto successivo quindi carico il filo sull'uncinetto entro all'interno di questo punto prendendo tutte e due le asoline o una sola a seconda se lo volete più o meno morbido se volete che rimanga più compatto prendete tutte e due le asoline così se invece volete che rimanga più morbido ne prendete una sola quindi prendete solo quella anteriore quindi quello che farò io io prendo solo la catenella anteriore e rifaccio la stessa cosa quindi faccio passare il filo attraverso la prima asola e poi chiudo la maglia alta 1 e 2 adesso l'asolina questa è la base del punto successivo quindi carico il filo sull'uncinetto prendo nuovamente l'asola solo se volete vi ripeto le prendete tutte e due le asole così se volete più morbido prendete solo quella anteriore andate a chiudere solo la prima asolina creando la base per il punto successivo ancora e poi chiudete la maglia alta ve lo faccio vedere ancora carico il filo entro nell'asolina quindi nella base del punto precedente ho fatto un'asola in più questa asola mi serve da base quindi entro dentro l'asola la chiudo da sola e poi chiudo la maglia alta carico entro nell'asolina tiro su chiudo la prima asola e poi faccio la maglia alta in questo modo vedete viene fuori la riga di maglia alta senza bisogno di fare una catenella iniziale quindi in questo modo voi potrete andare a misurare man mano che create la vostra riga di base su o una misura che avete oppure addirittura come vi dicevo prima lo potete fare tranquillamente su un capo che già avete quindi voi prendete la vostra maglia la posizionate andate a misurare la catenella e proseguite la riga e proseguite nella creazione della stessa fino a che non avrete ottenuto la lunghezza che vi occorre ecco qui io ho terminato la mia riga la prima riga di maglia alta e ho terminato con 84 maglie perché ho rimisurato e 94 erano un po troppe quindi 84 maglie ho diminuito di 10 adesso io vado a lavorare sempre a maglia alta in righe di andate e ritorno sino ad avere l'altezza che voglio per il mio cardigan adesso io lavorerò le mie righe poi vi dirò quante ne ho fatto per la taglia che sto realizzando ripeto una xxl molto ampia come maglia inizio ogni riga con due catenelle salto la prima che è sostituita appunto dalle tre catenelle e vado a lavorare le mie maglie alte adesso normalmente quindi punto su punto su ogni maglia alta che mi ritrovo sotto vado a realizzarne un'altra e procedo così fino a raggiungere l'altezza che mi occorre io ho terminato di realizzare questa parte del cardigan per realizzarla ho fatto 40 righe di andate e ritorno adesso dobbiamo andare a realizzare questa parte questa parte qui quindi voltiamo il nostro lavoro dal diritto e andiamo a montare le catenelle che ci occorrono per realizzare il davanti siccome tende a tirare la lavorazione noi andremo a montare 15 20 catenelle in meno rispetto alle catenelle iniziali quindi noi abbiamo montato 84 catenelle nel mio caso 84 catenelle ne andrò a montare 64 quindi ne monto 20 in meno quindi faccio 64 catenelle 1 2 3 4 5 6 sino a 64 o sino a quante catenelle avrete montato voi da che avremo terminato di montare le catenelle andiamo a farne due o tre aggiuntive a seconda di quante ne fate all'inizio al posto della prima maglia alta e poi le saltate io ne ho fatto due 1 2 salto la terza e nella quarta vado a realizzare la seconda maglia alta e procedo andando a lavorare il tutta la riga a maglia alta quindi su ogni catenella realizzo una maglia alta in questo caso perché nell'altra parte rifaremo nuovamente la viatura senza catenelle iniziali per uniformare il lavoro adesso procedo con riempire tutta la mia catenella a maglia alta e poi procediamo insieme una volta che avremo terminato di realizzare tutta la riga a maglia alta quindi tutta la ricoprire tutta la catenella a maglia alta procederemo con la lavorazione di tutte le maglie della parte del retro sempre a maglia alta adesso stiamo iniziando noi la parte del davanti e quindi andiamo a ricoprire tutte le maglie alte che ci ritroviamo sotto a maglia alta fino al termine quindi ne stiamo facendo questa parte qui questa riga qui una volta che avremo terminato realizzato quindi la catenella aggiuntiva ricoperta di maglia alta abbiamo lavorato tutta la parte del retro maglia alta per avere una linearità nella lavorazione adesso rifaremo il punto quello senza catenelle quindi inseriamo l'uncinetto nel punto d'aggancio della maglia alta sottostante questa è la maglia alta qui è il punto d'aggancio quindi la catenella della maglia sottostante ancora rientriamo qui lavoriamo la prima asola da sola e poi facciamo la maglia alta uno e uno due così così si allinea all'altezza delle altre maglie alte e procediamo andando a lavorare esattamente così come abbiamo fatto prima quindi entriamo nell'asolina che abbiamo lavorato da sola lavoriamo da sola la prima asolina e poi lavoriamo la maglia alta carico il filo entro nella nell'asolina lavoro solo la prima asolina e poi lavoro la maglia alta e procedo così sino ad andare a realizzare lo stesso numero di maglie che ho montato nella catenella iniziale quindi io qui ho montato 64 catenelle ho lavorato quindi 64 maglie alte andrò a lavorare 64 maglie alte in questo modo una volta che avremo terminato con la realizzazione delle 64 maglie alte senza catenella iniziale non vi preoccupate se vedete che magari il lavoro non è linearissimo perché tanto si sistema una volta che voi inizierete a lavorare a righe di maglia alta quindi voltiamo il lavoro e iniziamo la lavorazione normalmente quindi due catenelle saltiamo la prima maglia che è sostituita dalle due catenelle e andiamo a lavorare a maglia alta in righe di andata e ritorno praticamente questa parte ve la faccio vedere qui che è molto meglio questa parte che noi andiamo a lavorare adesso in righe di andata e ritorno alla fine andrà piegata sul davanti quindi voi dovrete andare ad allargare quindi ad allungare la lavorazione sino a che quando piegate in questo modo la parte che avete lavorato si allarga quanto poco più della metà io adesso procedo con la mia lavorazione poi vi dirò quante righe ho fatto comunque indipendentemente dalle righe, dalle catenelle iniziali che avete fatto per la vostra maglia quindi dalla taglia che vorrete ottenere nel vostro cardigan andrete a lavorare sino a che l'altezza di questa parte ripiegata sul dietro del lavoro non arrivi a poco più della metà poi dipende se lo volete più aperto, più chiuso se volete un collo più ampio o meno ampio io comunque adesso procedo con le mie righe e poi vi dico quante ne ho fatte ecco qui, io ho finito la lavorazione della mia parte laterale questo è il davanti riprendo il mio micro pezzettino quindi questa qui, questa corrisponde a questa parte e questa qui corrisponde al davanti successivo quindi a questa parte della lavorazione noi praticamente abbiamo lavorato una T io per realizzare il davanti del mio cardigan ho fatto 22 righe a maglia alta con le catenelle che ho ripreso lateralmente se voi volete realizzare il vostro cardigan più avvolgente e farete più righe se volete quindi un collo che venga molto più avvolgente rispetto a quello che faccio io non volevo una cosa troppo esagerata e quindi a 22 righe mi sono fermata quindi andrò a posizionare la parte laterale esattamente come abbiamo visto nel modellino piccolino in questo modo così, questo è il davanti e lo faccio anche dall'altra parte controllo un attimo che siano arrivati alla misura che mi occorre così ecco qui questa la punta è il collo quindi una volta che ve lo indossate lo ripiegate e l'effetto è questo è il collo a scialle va bene? quando ve lo faccio vedere sul manichino vedrete l'effetto che è molto molto bello procediamo adesso con la realizzazione delle maniche e andremo a montare una catenella di 28 maglie quindi una due tre sino a 28 una volta terminate le 28 maglie andremo a lavorare per 6 righe a coste 1 e 1 la base delle coste 1 e 1 è a maglia alta quindi la prima riga la facciamo tutta a maglia alta facciamo tre catenelle aggiuntive una, due, tre, quattro le saltiamo e nella quinta facciamo la seconda maglia alta e procediamo lavorando tutte le 28 maglie a maglia alta sino al termine quindi della riga una volta che avremo terminato tutta la riga a maglia alta procediamo con la lavorazione delle coste 1 e 1 facciamo tre catenelle iniziali che sostituiranno la prima maglia alta in costa davanti poi facciamo quella in costa dietro quindi carichiamo il filo sull'uncinetto e andiamo sul retro del lavoro ed entriamo nello spazio tra questa maglia e questa così scavagliamo la maglia successiva dal davanti e usciamo nello spazio tra questa e questa quindi in questo spazio qui così agganciamo il filo e facciamo la maglia alta per la maglia in costa davanti carichiamo il filo andiamo sul davanti del lavoro ed entriamo sempre nello spazio tra questa maglia e questa qui dopodiché scavagliamo la maglia dal retro e usciamo lateralmente nell'altro spazio raccogliamo il filo e chiudiamo la maglia alta nuovamente quella in costa retro carico il filo vado sul retro del lavoro entro nello spazio tra maglia e maglia scavallo la maglia dal davanti aggancio il filo e faccio la maglia alta invece in costa davanti carico il filo entro nello spazio tra maglia e maglia lateralmente scavallo la maglia dal retro esco dall'altra parte quindi nell'altro spazio aggancio il filo e faccio la maglia alta e procedo così per tutta la riga quindi sino in fondo l'ultima maglia della riga la lavoreremo a maglia alta normale quindi 1-2 sulla terza catenella dal basso entriamo e realizziamo la nostra maglia alta così ora voltiamo e nuovamente 3 catenelle a sostituzione della prima maglia alta in costa davanti e poi ci ritroviamo una maglia alta in costa retro la vediamo bene perché è in rilievo vedete? ha proprio il rilievo quindi caricate il filo passate sul retro scavallate la maglia dal davanti e andate a lavorare punto su punto quindi dove avete la maglia alta in costa davanti la lavorerete in costa davanti quando avete la maglia alta in costa retro la lavorate in costa retro e procedete in questo modo per un totale di 6 giri quindi questo è il terzo giro ne dovete fare ancora 3 un totale di 6 compresa la prima riga a maglia alta procediamo adesso a lavorare per 20 righe a maglia alta normale quindi smettiamo la lavorazione appunto coste 1 e 1 e iniziamo la lavorazione a maglia alta normale per la lavorazione della maglia alta normale io inizio con 2 catenelle se voi preferite iniziare con 3 inizierete con 3 e vado a lavorare per 20 righe andando nel corso di queste 20 righe a fare degli aumenti adesso poi vi dirò le righe nelle quali faremo gli aumenti la prima riga e la seconda la lavoriamo normalmente a maglia alta quindi ogni maglia che ci ritroviamo sotto la lavoreremo a maglia alta normale quindi riprendiamo tutte le nostre 28 maglie che abbiamo messo all'inizio e andiamo a riprenderle tutte a maglia alta per questa riga e per quella di ritorno procediamo adesso andando a lavorare fino alla ventesima riga dopo il bordo quindi le 6 maglie di bordo le conto a parte inizio a contare da 1 dalla prima riga a maglia alta dopo il bordo quindi adesso faccio la terza riga e vi faccio vedere gli aumenti come si realizzano semplicissimo e poi vi dirò tutte le righe dalla prima alla ventesima dove andremo a realizzare appunto questi aumenti l'aumento lo effettueremo all'interno della prima maglia quindi andiamo a lavorare le catenelle iniziali a sostituzione della prima maglia alta ne saltiamo ovviamente la maglia successiva perché è sostituita dalle 3 catenelle quindi andiamo nella seconda a realizzare la seconda maglia alta all'interno della stessa maglia ne facciamo un'altra quindi l'aumento lo facciamo così sul lato destro poi lavoriamo tutte le maglie alte sino alle ultime due maglie di base quindi lasciamo fuori le ultime due maglie di base ecco qui io sono arrivata alle ultime due maglie di base lavoro l'aumento nella penultima quindi due maglie alte nella penultima maglia alta di base e l'ultima maglia alta la lavoro sulla seconda nel mio caso perché ne faccio due catenelle dal basso se voi ne fate tre la chiuderete sulla terza catenella dal basso quindi andremo a lavorare l'aumento nella terza che è quella che abbiamo fatto adesso poi lo faremo nella quinta quindi la quarta la lavoriamo normalmente senza l'aumento andiamo a fare un aumento una riga sia una riga no in pratica quindi ripetiamo nella terza, nella quinta nella settima, nella nonna nella undicesima, nella tredicesima nella quindicesima nella diciassettesima e nella diciannovesima riga dovremo ritrovarci al termine della ventesima riga che lavoreremo senza gli aumenti con 46 maglie se poi voi volete realizzare la vostra manica più ampia o più piccolina andrete ad aumentare le maglie all'inizio della riga quindi della catenella iniziale all'incirca sono 3-4 maglie per taglia però comunque io lo sapete vi consiglio sempre di utilizzare di fare un campione io lavoro in un certo modo voi magari lavorate in maniera completamente differente dalla mia quindi io vi consiglio sempre di fare il campione ora poi quando ho terminato la manica vi dirò quanto misura ecco qui io ho terminato la mia manica il polsino misura 21 cm e mezzo di lunghezza è 37 cm di larghezza è 43 cm quindi voi andrete a lavorare in base alle vostre misure questa non è né aderente né larga è giusta per una taglia 48-50 se poi volete farla appunto più larga o più stretta andrete ad aumentare o a diminuire le maglie iniziali della catenella iniziale tenendo presente che più o meno quindi indicativamente ogni 4 maglie si aumenta o riduce una taglia questo sia per il corpo del nostro cardigan della nostra giacca sia per quanto riguarda appunto le maniche una volta che avrete terminato di realizzare una manica ne realizzerete un altro uguale una volta che abbiamo realizzato tutti i componenti quindi la parte del corpo della giacca e le maniche andremo a piegare le maniche a metà in questo modo tendete l'ultima maglia in modo che combaci perfettamente con la prima piegate a metà e mettete un marca punti al centro così e lo fate ovviamente anche nell'altra manica poi prendiamo il corpo del cardigan e andiamo a misurare lo pieghiamo così come vi ho fatto vedere prima quindi con le due parti ben allineate lateralmente una volta che abbiamo preso proprio esattamente la misura della metà da questa parte andiamo a posizionare i marca punti adesso vi dico a quanti centimetri ognuna di voi poi lo farà a tanti centimetri quanti gli occorre però in linea di massima se fate una XL a 20 centimetri dall'inizio della manica praticamente dall'attaccatura delle spalle che non è un attaccatura, è un giro quindi quando fate la piegatura dall'inizio della piegatura dovete misurare 20 centimetri così dopodiché andrete a posizionare un marca punti da un lato e dall'altro così questo per avere il segno di dove dovete arrivare con la cucitura della manica poi aprite il vostro lavoro in questo modo prendete la manica e la cucirete così per cucirla la agganciate con un marca punti da un lato con il marca punti centro centro questo marca punti è durissimo così e ovviamente partirete a cucire da qui quindi prendiamo ago e filo partiamo dall'estremità dove abbiamo il marca punti entriamo con l'ago uniamo con un nodino blocchiamo con un nodino in modo che non si sposi poi quando termineremo andiamo a fare sparire tutti i fili di lavorazione e andiamo a cucire facendo il punto incrociato entriamo nella maglia superiore così adesso io ho preso il filo bello lungo perché voglio cucirci tutta la manica e poi andiamo nella maglia corrispondente di sotto così la prendiamo tutta la maglia in questo caso poi ritorniamo nuovamente al punto di partenza quindi rientriamo nella maglia dalla quale siamo partite così nuovamente adesso io sono sopra con il filo di cucitura entro nel punto sotto così poi vado nel punto corrispondente sopra e mi chiudo rientrando nuovamente nel punto sotto adesso sono sotto partirò da sopra quindi entro nel punto accanto sopra vado nel punto sotto di fronte e mi chiudo nuovamente nel punto dal quale sono partita così ora sono sopra passo vado sotto punto corrispondente sopra e mi chiudo nel punto dal quale sono partita in questo modo viene una cucitura molto piatta e non dà assolutamente fastidio è una cucitura molto molto utile quando si devono fare delle cuciture appunto che devono risultare piatte io di solito la uso così sempre questa cucitura perché mi trovo molto bene procediamo a cucire tutta la parte superiore della manica e poi andremo a cucire sotto manica e fianchi ovviamente da una parte e dall'altra come detto una volta che avrete terminato di cucire la manica praticamente la parte superiore della manica andrete a piegare la stessa quindi dal polsino la piegate in modo che il sotto manica combacino così e andate a fermare il sotto manica con un punto così dopodiché andrete a cucire tutto il sotto manica quindi tutta la parte del sotto manica e il fianco quindi andrete ad unire i due fianchi le due parti dei fianchi e andrete a cucire nello stesso modo che abbiamo visto prima sia il sotto manica che il fianco da una parte e dall'altra per far sparire i fili di lavorazione li inseriremo in un ago da lana e poi andremo ad inserirli con l'ago all'interno dei punti lavorati in questo modo visto che qui abbiamo a disposizione il punto costine possiamo anche entrare all'interno di una costina e farlo sparire all'interno della costina quando siete invece nei punti di lavorazione normali andrete a farli sparire nei punti base delle maglie alte e poi andate a tagliare via in questo modo e li fate sparire tutti all'interno dei punti lavorati ed eccolo qui come si presenta il nostro cardigan la nostra giacca una volta indossato è veramente molto molto particolare la semplicità della lavorazione unita alla peculiarità del filato rende un capo veramente molto fine molto elegante può essere indossata con i jeans però può essere indossata tranquillamente anche con un abito e vedete l'effetto veramente molto molto bello adesso non vi rimane altro che prendere in mano il filato l'uncinetto e provare a farla a questo punto il nostro tutorial è terminato io come al solito vi ringrazio per avermi seguito vi aspetto tutti sul gruppo di facebook gli amici dell'angolo di Chris e ci vediamo al prossimo tutorial ciao